... Fine settimana senza ordinanze per il Ministero della Salute, record di vaccini nel lab della Fiera del Levante che resta nel mirino dell'opposizione. Intanto, località di mare prese d'assalto, ma traffico scorrevole nel primo weekend di luglio. Imprese, Puglia tra le prime nel mezzogiorno, ma quattordicesima a livello nazionale per sostenibilità economica, sociale e ambientale, più ampi, divari per Basilicata e Molise, la mappa nel report di Industria Felix, Lecce e Bari, le province più virtuose. Puglia sul podio del mare illegale, secondo la classifica di legambiente, insieme a Campania e Sicilia, oltre 2.900 le infrazioni accertate, 3,4 per ogni chilometro di costa. Buon pomeriggio, benvenuti e ben ritrovati, appuntamento in diretta con l'informazione che apriamo con il racconto di questo primo weekend di luglio, un fine settimana senza ordinanze da parte del Ministero della Salute, che si apre con un record di somministrazioni in un solo giorno nell'hub della Fiera del Levante, hub che resta al centro delle cronache e che oggi ottiene ancora il fuoco di fila delle opposizioni. Roberto Speranza non firma ordinanze, stavolta è celebra quello che definisce un fine settimana particolare. La ASL di Bari festeggia il nuovo record di somministrazioni nell'hub della Fiera del Levante, con 1.875 vaccinazioni in un giorno solo, ma sui tavoli della Regione. Restano proprio il futuro della struttura per le maxi emergenze e la campagna d'estate. Sul Covid Hospital torna ad aprire fuoco l'opposizione di Fratelli d'Italia, oltre al danno la Beffa, attaccano da Via Gentile. In un momento di lucidità il governatore afferma che le attrezzature possono essere riallocate in altre strutture come Ideo e Idea, e allora si proceda. Quale spreco sarebbe avere in disuso, attendendo l'emergenza che pure richiederebbe una risposta flessibile, strumentazioni d'avanguardia delle quali altri ospedali sono prive. E il ragionamento degli uomini di Giorgio Meloni, fatto sta che anche da Palazzo di Città si dicono pronti al confronto, ma mantengono le posizioni fermi sulla volontà di riservare le aree in questione a eventi legati alla campionaria. Si vedrà intanto la riduzione delle consegne da parte di Pfizer, circa 432.000 dosi in meno a luglio, ha indotto la Regione a rinviare a data da destinarsi oltre 219.000 prenotazioni under 50. Chi aveva programmato le somministrazioni dunque dovrà attendere. In buona compagnia si intende, visto che decisioni simili sono state assunte anche da Lazio e lamenteli arrivano da Toscana e Emilia-Romagna. Dalla prossima settimana inoltre, alcune sedute per seconde dosi programmati al pala carbonara nel capoluogo saranno dirottate nell'ab di Catino, sul fronte contagi. Area metropolitana in calo del 28%, quota 6,5 casi ogni 100.000 abitanti e 20 comuni a zero positivi. Si sono quasi del tutto svuotate le terapie intensive della Regione. Secondo il reportage, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, in Puglia solo il 2% dei posti letto complessivi occupati da pazienti Covid. Siamo sotto la media nazionale, ferma al 3%. Negli altri reparti, malattie infettive e immunologia, il tasso di occupazione del 4%, dunque leggermente superiore a quello della media nazionale. E allora vediamola all'altra faccia di questo primo weekend di luglio. Ha a che fare con il traffico sulle strade, ha a che fare con le località di mare prese d'assalto. Primo weekend di luglio è l'insegna di temperature più sopportabili rispetto ai giorni scorsi e del traffico tutto sommato scorrevole nelle principali località balneari pugliesi. Come dimostrano le immagini girate questa mattina a Bari in direzione sud, eccezione fatta per qualche rallentamento, gli automobilisti non hanno avuto grossi problemi a spostarsi verso la costa. Li aspetta un weekend di sole con il caldo africano attenuato dal vento e le temperature che si assesteranno intorno ai 30-32 gradi nella giornata di oggi e saliranno fino a 34-35 nella prima domenica del mese. Nel Foggiano i picchi più elevati che potranno essere l'anteprima di una nuova fase di caldo di stampo africano che potrebbe tornare nei prossimi giorni anche sulla nostra regione. Con l'arrivo del mese di luglio intanto si apre il cartellone degli eventi estivi in molte città. Questa notte inoltre si terrà la diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell'UNESCO. La direzione regionale Musei Puglia effettuerà un'apertura straordinaria serale gratuita organizzando un ricco programma di eventi nei luoghi di cultura che saranno fruibili dalle ore 19 e per tutta la notte. Il fronte economico e le imprese Puglia tra le prime nel mezzogiorno quattordicesima a livello nazionale per sostenibilità economica, sociale e ambientale. I numeri sono quelli del rapporto Industria-Felix. La Puglia è seconda nel mezzogiorno ma solo quattordicesima a livello nazionale per sostenibilità economica, sociale e ambientale. Più ampi sono i gap per Basilicata e Molise. Lecce si pone ai vertici nazionali per sostenibilità ambientale. Bari è prima nelle classifiche generali tra le province del sud-est ma al 45esimo posto nazionale. Emerge dal rapporto Servede Italia-Sostenibile relativamente a Basilicata-Molise-Puglia presentato al Castello Aragonese di Taranto nell'ambito del 34esimo evento organizzato dal magazine Industria-Felix in supplemento al Sole 24 Ore con importanti partner e rappresente anche l'assessore regionale allo sviluppo economico dell'Inoci. Vengono valorizzate le aziende che hanno superato questo momento di difficoltà rappresentando una crescita in Puglia e nel mondo. Raccontare la nostra capacità produttiva serve per darci forza, coraggio, generare emulazione, fiducia anche per una ripartenza sempre più forte. Con Servede presentiamo in anteprima il rapporto Puglia-Basilicata-Molise-Sostenibili dove emerge che la Puglia è la seconda regione del sud Italia in tema di sostenibilità ma è quattordicesima in Italia, seguita da Basilicata-17esima e Molise-18esima. E c'è anche un'altra classifica che coinvolge la Puglia e quella del mare illegale. La Puglia è sul podio secondo il report targato Lega Ambiente insieme a Campania e Sicilia oltre 2.900 le infrazioni accertate, pensate 3,4 per ogni chilometro di costa. Si chiama Mare Monstrum e vede la Puglia ancora sul podio e dopo Campania e Sicilia la flessione c'è visto il lockdown 2020 legato alla pandemia ma è leggera, a dirlo il report firmato Lega Ambiente che classifica le regioni italiane per numero di reati a danno di coste e mari. A dare un'occhiata ai parziali per la precisione, 2.965 infrazioni accertate nel 2020, il 13,3 per cento del totale nazionale che corrispondono a 3,4 reati commessi per ogni chilometro di costa, 2.686 persone denunciate e arrestate, 1.016 sequestri effettuati dalle forze dell'ordine. E non va meglio se si guarda le illegalità sul ciclo del cemento, la Puglia è al terzo posto con 1.103 illeciti accertati, l'11,6 per cento sul totale italiano, 1.230 persone denunciate. Una polaroid impietosa, citano dall'Associazione Difesa dell'Ambiente che già qualche settimana fa aveva riacceso i riflettori sulla difficoltà di portare a termine le demolizioni contro il cemento selvaggio in tutto il mezzogiorno. Non basta, dal Gargano al Salento il territorio pugliese è sì fuori podio ma ugualmente quarto per reati legati al ciclo di rifiuti e in genere a fenomeni di inquinamento marino guadagnando il secondo posto nella classifica dei reati legati alla pesca illegale con 882 infatti frazioni accertate ma soprattutto con oltre 98 tonnellate di pesce sequestrato delle 579 finite sotto sigillo su scala nazionale che valgono alla regione il sesto posto in classifica. Ancora territorio ma per parlare di turismo e anche di fede delegazione dei comuni provenienti da Puglia e Basilicata ha fatto tappa a Galatone per festeggiare il quattrocentesimo anniversario del miracolo del crocifisso della pietà. A dieci anni dalla fondazione dell'Associazione Nazionale delle Città del Santissimo Crocifisso una delegazione di comuni provenienti dalla Puglia e dalla Basilicata hanno fatto tappa a Galatone in piazza del Santissimo Crocifisso per festeggiare anche il quattrocentesimo anniversario del miracolo del crocifisso della pietà. La città di Galatone è tra i comuni fondatori del percorso associativo in un viaggio tra devozione e promozione e che ad oggi conta 45 municipalità che rappresentano nove regioni italiane. Essere qui come terza tappa di questa celebrazione decennale ci riempie di gioia e ci dà la speranza di questa ripartenza che possa essere per tutti un motivo di sviluppo, di crescita ma anche di valorizzazione dei nostri valori che ci accomunano. L'icona miracolosa del Santissimo Crocifisso cambiò aspetto in quanto le mani davanti passarono dietro allora da questo momento, da questa ricorrenza è partita proprio la devozione della comunità galatonese al Santissimo Crocifisso, dopodiché è nato il santuario, è nata tutta la situazione che lega questa comunità. Il miracolo del Crocifisso è quello che ci fa stare insieme, ci fa condividere il culto del Crocifisso ma condividere anche le nostre tradizioni. Questo santuario del Santissimo Crocifisso rappresenta a Galatone molto di più che soltanto un'immagine religiosa che già è tanto, rappresenta il modo per i cittadini di sentirsi uniti nella fede, una città che da sempre è stata estremamente vicina alla fede cattolica e oggi si ritrova come comunità. Ancora territorio, ancora turismo, a Taranto al Museo Archeologico fa tappa un beauty track decisamente particolare. Mi infila anche con il sole, con l'ombrellino, perché? Ha dei prodotti buoni. Per accompagnare mia figlia. Lei segue l'estetista cinica? La seguo per curiosità, mi sembra anche un'ottima persona. Dal vivo le appare come su Instagram? Sì, praticamente sì, molto naturale. Sono molto interessanti i suoi contenuti, poi a parte che è simpaticissimo. Mi diverte vedere le sue storie simpatiche. Dal vivo è ancora più bella che su Instagram e soprattutto trasmette quella luce e quel calore che trasmette attraverso le storie ed è veramente eccezionale. Me l'aspettavo così. A Instagram non c'è filtro, non c'è finzione allora? No, 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 si mostra com'è nella realtà. Parola di follower e loro, si sa, le critiche non le risparmiano. Cristina Fogazzi è proprio come appare su Instagram l'estetista che del cinismo ha fatto la sua arma vincente. Bagno di folla, taranto per l'ecotrack del suo brand di cosmetica per il progetto bellezze al museo. Promuoviamo ogni giorno una bellezza frivola, spiega la cinica, ma sicuramente inclusiva, aggiungiamo noi. Perché non promuovere anche le bellezze dei musei italiani? E così in Piazza della Vittoria, a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, sono stati regalati i biglietti d'ingresso proprio per promuovere anche l'attenzione all'archeologia tra le più giovani. Da quando hai iniziato tante cose sono cambiate. Adesso anche la comunicazione spinge sul concetto tutti possono essere davvero belli. Vero. La migliore cosa a indossare è un sorriso. Quando sorridiamo siamo tutti davvero belli. Mi dispiace anche per le ragazze che sono in coda, fa anche caldo. Io sono veramente costernato. Ci fermiamo, torniamo tra poco. State con noi. Di nuovo insieme per l'informazione dalle province. C'è il giro dei campi che apriamo dalla Capitanata. Prima un'aggressione in strada, poi l'incendio della porta d'ingresso di un'abitazione a Foggia. Il tutto sarebbe partito da un litigio tra ragazzi per futili motivi. Attimi di terrore ieri sera in via Capozzi a Foggia, dove nel giro di poco tempo si sono verificati prima un'aggressione in strada e poi l'incendio della porta di un appartamento, due fatti strettamente collegati tra loro. Il tutto è partito da un litigio avvenuto poco prima in via Manzoni tra la vittima, un ragazzo di 20 anni, e un 17enne col suo gruppo di amici, una decina di giovani, tra cui anche minorenni. Dalla colluttazione il ragazzo avrebbe riportato una ferita alla testa e sarebbe poi scappato rifugiandosi nella propria abitazione, abitazione, cosa che non ha fermato il gruppo, che lo ha inseguito e ha piccato il fuoco alla porta d'ingresso dell'appartamento al piano rialzato con del liquido infiammabile. L'incendio generato si è spaventato la madre, 56 anni, ed il ragazzo, che si è buttata dal balcone di casa, da un'altezza di due metri, per evitare le fiamme. Sia lei che il figlio sono stati trasportati in ospedale, le loro condizioni fortunatamente non sono preoccupanti. Solo accaduto indaga la polizia, che sta provando a rintracciare gli aggressori con il contributo dei filmati della videosorveglianza. Al momento, però, non è stato emesso nessun fermo. A distanza di sei mesi da due violente risse, una sparatoria e i poliziotti di Trani arrestano tre persone. Alla base dei gesti una casa popolare contesa da due gruppi criminali. Un alloggio popolare Arca conteso tra due gruppi criminali a Trani. La polizia ha arrestato tre persone, due 32enni e una 29enne con l'accusa di porto illegale di arma comune da sparo. Era il 28 gennaio, quando in via Superghe, nella zona periferica della città, era stata segnalata una violenta lite che culminò con una sparatoria. Quando sul posto giunsero i poliziotti, trovarono un telefono cellulare, risultato intestato ad uno degli arrestati. Nella successiva perquisizione, a casa sua, gli agenti trovarono la convivente e le mogli degli altri due arrestati, mentre i tre uomini si erano resi irreperibili. Intercettazioni telefoniche e ambientali hanno poi accertato il loro coinvolgimento nella sparatoria, nonostante la reticenza nelle dichiarazioni delle due donne e l'atteggiamento omertoso di tutte le persone sentite. La dinamica ricostruita descrive due risse, quella indicata dal testimone che l'aveva segnalata la polizia e una successiva tra donne, alla quale sarebbe eseguita l'esplosione dei due colpi di pistola. Al centro del litigio, la pretesa di alcuni esponenti della crimina locale di impossessarsi di una casa popolare già occupata abusivamente con la famiglia dall'esponente di un gruppo rivale il quale, minacciato e aggredito, avrebbe reagito con la complicità di due sodali sparando per far desistere dall'intento. Questi ultimi tre oggi sono finiti in carcere. Dal comune di Barletta intanto ancora un appello per sistemare le famiglie rimaste senza un tetto coinvolte nel crollo di Via Curci. Da Palazzo di Città si dicono disposti a pagare le prime mensilità. Quasi tre settimane dopo il crollo di Via Curci, avvenuto il 16 giugno scorso, il comune di Barletta lancia un appello ai proprietari di appartamenti sfitti per metterli a disposizione dei cittadini, le cui abitazioni sono ancora sequestrate dall'autorità giudiziaria a causa degli accertamenti per l'esplosione. Il comune aveva già stanziato 100.000 euro per la messa in sicurezza della zona, la rimozione delle macerie e le spese necessarie per affrontare l'emergenza, come il pagamento degli affitti delle strutture ricettive in cui stanno alloggiando al momento le 12 famiglie colpite dal crollo. La disponibilità degli alloggi, si legge nella nota, darebbe ulteriore impulso all'impegno del comune che per fronteggiare le richieste dei residenti senza abitazione o non ancora autorizzati a rientrarvi sta sostenendo gli oneri delle strutture ricettive che accolgono i senza tetto ed è disposta a contribuire al pagamento delle prime mensilità del fitto in caso di trasferimento in locali liberi. L'amministrazione comunale conclude auspicando una forma di cooperazione che attribuirebbe ulteriore compiutezza ai provvedimenti emanati per superare disagi e criticità ancora incombenti in relazione ai quali l'istituzione comunale sta misurandosi senza sosta come dimostrano tra l'altro i regolari incontri a Palazzo di Città con i nuclei familiari coinvolti nella drammatica vicenda. Riapriamo la pagina dedicata alla sanità lo facciamo con il bollettino epidemiologico di oggi appena diramato dalla regione 6.269 i test per l'infezione da Covid-19 47 nuovi casi positivi in 4 arrivano dal Barese 3 dalla provincia di Brendisi 4 dalla Bat 3 in provincia di Foggia 23 nell'eccese 10 nel Tarantino non sono stati registrati decessi fanno sapere da via gentile intanto l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha visitato nelle scorse ore l'istituto di ricovero e cura carattere scientifico De Bellis di Castellana Grotte L'ospedale De Bellis è una realtà importante e unica nel panorama nazionale così l'assessore regionale Pierluigi Lopalco in visita per la prima volta all'istituto di ricovero e cura carattere scientifico di Castellana Grotte di cui ha esaltato l'attività di ricerca definita di altissimo livello ad accompagnarlo nella struttura anche il commissario straordinario Tommaso Stallone che ha illustrato i passi in avanti raggiunti dall'ospedale sia dal punto di vista scientifico ad esempio il riconoscimento di AIFA come unico centro pugliese dove poter eseguire studi clinici di fase 1 e sia assistenziale anche come adeguamento organizzativo e di dotazioni tecnologiche Qui si svolge un'attività di ricerca che è davvero un'attività di altissimo livello grazie all'impegno che ha avuto la direzione negli ultimi anni se andiamo a vedere quelli che sono anche gli indici cosiddetti gli indici di produzione scientifica sono davvero degli indici di tutto rispetto quindi la nostra amministrazione regionale ha intenzione di investire in questo campo di investire nella ricerca applicata di investire nella ricerca sul territorio e sicuramente un ospedale come questo, un IRCS di questo livello rappresenta nei fatti quello che è la nostra strategia In questi due anni la radiologia l'abbiamo completamente modernata siamo l'unica struttura ad avere una risonanza 3 tesla pubblica chiaramente abbiamo la TAC 128 ricordo che noi ci occupiamo all'80% dell'attività di oncologia gastroenterologica e anche delle malattie croniche intestinali dove in ultimo periodo stiamo potenziando al massimo questo ambito dedicando anche dei posti letto ad hoc per queste patologie E la sfida, mai come in questo periodo dell'anno è anche l'assistenza sui fronti presi d'assalto dai turisti attivo il servizio di guardia medica nella frazione di Cozze È stato attivato anche quest'anno per tutta l'estate il servizio di guardia medica di urna nella frazione di Cozze in Largo Puglia a Mola di Bari Il servizio è disposto per rispondere alle esigenze dei residenti dei villeggianti e dei bagnanti e sarà aperto dalle ore 10 alle ore 20 di tutti i giorni Grazie ad una convenzione siglata tra l'amministrazione comunale ed un'associazione di protezione civile inoltre la frazione sarà dotata nei weekend di luglio-agosto di un'ambulanza fissa di un pronto intervento dalle ore 10 alle ore 20 postazione che sarà attiva anche nella settimana di ferragosto Abbiamo ricevuto la notizia dell'autorizzazione sempre da parte dell'ASDA dell'apertura del dispensario farmaceutico sempre in Largo Puglia nelle vicinanze della guardia medica accanto a questi servizi tradizionali aggiungiamo, grazie anche ad alcuni fondi regionali che ci sono stati confermati quest'anno alcuni servizi come l'assistenza di un'ambulanza del 118 comunque al servizio dell'emergenza nel fine settimana di luglio-agosto e nella settimana a cavallo di ferragosto con un servizio che quest'anno non si limiterà solo a cozze ma che riguarderà un po' tutta la costa e naturalmente grazie al supporto delle associazioni di protezione civile che si renderanno disponibili anche un servizio di vigilanza sulla costa Anche quest'anno a Mola sarà possibile usufruire dell'app in spiaggia scaricabile sullo smartphone da App Store e da Google Play un'applicazione per evitare le assembramenti e rispettare i protocolli anti-Covid Ricalcherà quelle che sono le zone delle spiagge molesi e in tempo reale fornirà ai bagnanti naturalmente lo stato dell'arte rispetto alle presenze sulle spiagge La finalità naturalmente è quella di evitare gli assembramenti anche perché siamo in una situazione di relativa tranquillità grazie ai vaccini ma non dobbiamo mai abbassare la guardia e quindi dobbiamo continuare a rispettare le prescrizioni volte a prevenire l'emergenza epidemiologica E salute vuol dire anche telemedicina e comunque supporto della tecnologia specie quando il fattore tempo è determinante se ne è discusso in Fiera di Levante Si è parlato di ictus e telemedicina con gli specialisti pugliesi alla Fiera di Levante e di Bari in un meeting promosso dall'Associazione Italiana di Sanità Digitale Regione Puglia l'ictus è la prima causa di invalidità permanente la seconda causa di demenza dopo l'Alzheimer e la terza causa di morte sommata alla patologia cardiovascolare sale al primo posto una diagnosi tempestiva e un'azione riabilitativa dopo l'evento possono ottimizzare il potenziale recupero del paziente in questo contesto l'utilizzo dei sistemi avanzati di comunicazione e di telemedicina possono rappresentare uno strumento formidabile di intervento il telestroke facilita le consultazioni specialistiche a distanza da qualsiasi luogo ed in tempo reale in Puglia l'adozione del sistema di telestroke si innesterebbe su un sistema già maturato come quello della telecardiologia con un indubbio vantaggio degli interventi in emergenza in un contesto in cui il fattore tempo è fondamentale gli interventi precoci rappresentano per tutti noi momenti fondamentali della professione medica perché si riesce in questa maniera a ridurre le conseguenze talvolta drammatiche di una patologia come quella dell'ictus e qui il ragionamento anche sulla telemedicina diventa un ragionamento importante anche alla luce di quelli che possono essere gli sviluppi del piano di rilancio e resilienza che il governo sta avviando e che consentirà di avere strumenti e risorse da mettere in campo per sostenere interventi assistenziali di questo genere Intanto il frontelavoro a metà del guado verso la ripartenza il settore dei locali da ballo e dunque delle discoteche siamo stati in uno dei più noti locali pugliesi nella BAT Veder la vuota è nel più totale silenzio e un colpo al cuore ci troviamo a Biceglie in una delle più importanti discoteche d'Italia il DF Disco per lunghi anni di Vine Follie come tante altre strutture notturne da ballo il DF è chiuso da 17 mesi e continuerà ad esserlo in virtù delle recenti decisioni del governo la speranza di fatti era quella di poter riaprire proprio in questi giorni tant'è che il DF Disco era lavoro con i propri operai per gli ultimi ritocchi di manutenzione Ci aspettavamo una risposta positiva in merito alla ripartenza diciamo del mondo della notte soprattutto in virtù del fatto che il CTS si era espresso in modo favorevole qualche giorno fa quindi lo davamo quasi per scontato che il governo avrebbe comunque accolto diciamo anche il parere favorevole del CTS invece ieri ci è arrivata come dicevi la doccia fredda e infatti ad oggi non abbiamo alcuna data certa per una possibile ripartenza considerando anche che il CTS aveva già indicato delle linee guide per le ripartenze che erano appunto il green pass erano i tamponi e nelle 48 ore prima erano il tracciamento e quindi erano tutte delle misure che potevano garantire la piena sicurezza dei clienti e dei nostri dipendenti all'interno delle discoteche differentemente da quello che ormai sta accadendo ovunque visto che si balla in tutti i posti dove che non sono autorizzati quindi senza alcun controllo e senza alcuna sicurezza un indotto che tra dipendenti PR, DJ, artisti, operatori del settore tocca alle 90.000 persone in tutta Italia ci si prepara per questo ad una grande manifestazione a Roma a Palazzo Chigi immaginate un'azienda chiusa da 17 mesi senza alcuna prospettiva come può stare l'azienda e i dipendenti che comunque ci lavoravano proprio ieri avevamo fatto una campagna avevamo fatto un Vax Day a Molfetta presso il lab vaccinale della Network Contact dove abbiamo fatto vaccinare più di 500 ragazzi tra i nostri dipendenti e collaboratori proprio perché ci stavamo preparando a una possibile ripartenza in sicurezza però questo non è stato possibile il governo continua a rimandarci come se noi non esistessimo e infatti ci stiamo organizzando proprio a un discorso di poche ore fa a livello nazionale per una manifestazione da svolgersi proprio la settimana prossima a Roma perché ormai siamo veramente stanchi di questa situazione Ancora lavoro ma cambiamo tono queste sono le buone pratiche che arrivano dalla Capitanata e nello specifico da Casa Sancara che riguardano l'accoglienza e l'integrazione Il sistema di supporto e assistenza realizzato da Coldiretti Foggia presso Casa Sancara Get Out è stato riconosciuto come best practice durante la visita della delegazione della Regione Puglia alla foresteria che accoglie più di 400 migranti nel Foggiano un sistema che brilla per la cura e attenzione rivolta ai servizi alla persona al trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro all'assistenza burocratica è considerata l'emergenza pandemica anche alle vaccinazioni trasparenza, legalità e regole certe un nuovo modello di sviluppo dell'agricoltura della Capitanata e della Puglia intera un modello di accoglienza e integrazione utile per mettere le imprese nelle condizioni di impiegare al meglio i lavoratori strappandoli alla condizione di invisibilità come affermato da Pietro Piccioni di Coldiretti Foggia la mano d'opera extracomunitaria in agricoltura rimane ancora la percentuale più determinante nelle coltivazioni sia arbore che orticole il loro contributo è divenuto indispensabile soprattutto nella raccolta dei pomodori degli asparagi e dei carciofi così come nel lavoro all'interno delle stalle più di un quarto del Made in Italy a tavola in Puglia si ottiene dalle mani straniere e solo nel Foggiano terra particolarmente colpita dai fenomeni dello sfruttamento e del caporalato si contano circa 973.000 giornate di lavoro fornite da lavoratori stagionali stranieri dunque rincuore il riconoscimento di una best practice in accoglienza e integrazione sociale e legale dei e con i migranti che sono una componente massiccia nella nostra comunità Benvenuti nella terra della libertà Ancora lavoro ma attraverso un ponte che guarda l'Europa formare e informare le imprese e i giovani sulle opportunità dei fondi che arrivano da Bruxelles L'obiettivo della seconda edizione di Eureka è inaugurarla il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio È stata una due giorni molto proficua abbiamo inaugurato la manifestazione l'organizzazione di Eureka con Luigi Di Maio che ha fatto un report molto importante sul Sud Italia e sulle potenzialità del Sud Italia anche in materia di fondi strutturali e diretti perché questa due giorni è dedicata ai fondi a gestione diretta oggi avremo concretamente dopo il mondo delle imprese gli studenti che verranno a fare una esercitazione pratica su quelle che sono le call for proposal della Commissione Europea ed è un momento per esercitarsi e confrontarsi con quelli che saranno gli europrogettisti di domani Si conclude la due giorni di Eureka 2021 e il format ideato dall'europarlamentare Mario Furore ad inaugurare questa seconda edizione il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio in collegamento da Roma La prima giornata è stata dedicata alle imprese le quali hanno avuto l'opportunità di dialogare direttamente con i principali referenti della Banca Europea per gli investimenti a questo si è aggiunto un focus sui fondi diretti e sul programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe la seconda giornata è stata riservata agli studenti che potranno individuare nella materia della progettazione europea uno strumento di crescita professionale e di supporto strategico per il territorio a dialogare con il mondo universitario un parterre tutto al femminile composto dall'onorevole Gisella Naturale dall'assessore regionale al welfare Rosa Barone dall'onorevole Carla Giuliano e dall'esperta in europrogettazione Roberta Mancia Il territorio della Capitanata si sta preparando bene ad accogliere tutte quelle che sono le importanti risorse finanziarie che il bilancio europeo sta destinando all'Italia e ai territori del meridione d'Italia si stima che per la programmazione 2021-2027 l'Italia potrà ricevere tra fondi strutturali fondi che fanno riferimento al Next Generation EU e attraverso la partecipazione ai programmi europei a gestione diretta circa 309 miliardi di euro Spiegare e avere possibilità di workshop come questi sono sicuramente un'opportunità da cogliere al volo e sono molto contenta che l'europarlamentare Mario Furro abbia dato al mio territorio questo tipo di occasione da sfruttare assolutamente Cambiamo argomento perché è tutto pronto a Barletta per le 10.000 vele contro la violenza sulle donne Fatta panche a Barletta 10.000 vele contro la violenza sulle donne cambiamo rotte insieme Lega Navale Barletta assieme ai centri antiviolenza Ollus Osservatorio Giulia e Rostella di Barletta e Save di Trani aderisce all'iniziativa nazionale per la lotta a la violenza sulle donne la veleggiata domenica vedrà idealmente legate da un filo rosso tutte le imbarcazioni in tutta Italia Ogni imbarcazione esserà un drappo o un nastro rosso Per questa occasione abbiamo risposto ad una sollecitazione che ci è arrivata da un'associazione nazionale 10.000 vele per la solidarietà fatta da dei velisti che ogni anno propongono un tema diverso quest'anno quest'anno hanno voluto dedicare la manifestazione contro la violenza alle donne una bella veleggiata e poi le bandiere che sventoleranno è la libertà la libertà di poter con la speranza che le donne che si rivolgono al centro antiviolenza possano sventolare e veleggiare come le vele sul mare è un'iniziativa che nasce dalla nostra sede nazionale tutte le sezioni periferiche d'Italia hanno aderito e noi non potevamo che rispondere presente sarà una grande manifestazione nel nostro porto non di vele ma di imbarcazioni a motore perché noi purtroppo non avendo pescaggio non possiamo ospitare barche a vela i nostri comuni e le nostre barche a motore scenderanno tutte in acqua e innalzeranno sulle loro antenne la bandiera rossa e nelle strade e negli angoli di Foggia è invece possibile trovare dei sassi colorati sono portafortuna contengono messaggi di gioia e speranza e l'ultima iniziativa dell'associazione Il Cuore di Foggia bisogna un po' di fortuna veramente è un berito proprio brutto brutto bisogna un po' di fortuna anche questa città ha bisogno di un po' di fortuna ha bisogno di fortuna e di darsi una svegliata e una mossa veramente che siamo rimasti un pochettino indietro all'era di Pappagone Al Via l'iniziativa ideata da Il Cuore Foggia Il Sasso del Cuore per dare inizio ufficialmente all'estate e alla libertà dopo il lungo periodo di pandemia e zona rossa l'idea l'idea già presente in tanti comuni italiani è l'obiettivo di donare attraverso un sasso Porta Fortuna colorato piccoli momenti di gioia a chi lo trova così i clown dottori del Cuore Foggia hanno realizzato tanti sassi colorati con disegni originali frasi Porta Fortuna e li hanno lasciati in tanti angoli della città dal Parco San Felice al centro storico di Foggia si tratta di una bellissima iniziativa lanciata dalla società civile si chiama Un Sasso per un Sortiso e noi a Foggia l'abbiamo fatta un po' nostra chiamandola appunto Il Sasso del Cuore lo scopo è quello di creare un po' una collaborazione anche una diciamo una caccia al sasso va bene e lasciando cioè questi sassi colorati dipinti da noi per varie zone di Foggia che sia il centro storico come può essere Vico Corridoio oppure appunto parchi urbani anche le zone limitrofe delle nostre abitazioni per valorizzare per diciamo incentivare anche un po' allo scambio A Foggia si ride poco ultimamente Infatti noi l'abbiamo pensata questa cosa l'abbiamo subito captata proprio perché dopo il periodo della pandemia andava diciamo dato un segnale di ripresa di rinascita Di sassi del cuore La cultura con le iniziative e gli eventi sul territorio da destra a destra nel libro di Fabrizio Frullani scena e soprattutto retroscena dell'ascesa degli ex AN Sa parlare a diversi ceti sociali a pezzi d'Italia anche diversi è preparata ti prepara veramente in maniera minuziosa su ogni dossier sa ascoltare e diciamo che il tempo anche di vedere una donna presidente del consiglio potrebbe essere arrivato veramente risponde così Fabrizio Frullani vice capo redattore del TG2 autore di Da destra a destra quando gli si chiede se i tempi siano maturi per una donna a Palazzo Chigi e se il profilo in questione possa corrispondere a quello di Giorgia Meloni a Villa Romanazzi a ricostruire la storia della fiamma ci sono gli esponenti della prima ora pugliese come Marcello Gemmato ma anche quelli che si sono uniti strada facendo come l'ex governatore copresidente del gruppo Bruxelles Raffaele Fitto inizio tutto in salita nell'arco di pochi giorni nel 2012 con il conto alla rovescio incombente per presentarsi alle elezioni ma raggiungendo poi la quota minima per rappresentare gli ex-AN in Parlamento e per il futuro chissà ma non è un caso che la discussione si riapra nelle stesse ore nelle quali Matteo Salvini e i bigazzurri tornano in piazza per la raccolta firme per la giustizia e mentre riemerge come tormentone quello di un partito unico di area dalla forma federale o meno da concretizzarsi entro il 2023 Fu uno strappo quindi a un mese esatto dalle elezioni è stata un'impresa perché veramente con quell'1,96% sono riusciti a tenere viva la rappresentanza della destra in Parlamento perché in quell'occasione ci fu anche il naufragio dell'esperienza di Fini e da lì partì appunto la rimessa insieme di questa diaspora che si era creata negli ultimi anni sono convinto che l'adesione al gruppo dei conservatori europei l'allargamento di altre esperienze la crescita che Fede l'Italia sta sviluppando in questa fase rappresentano certamente un momento importante e qualificante quindi mi auguro come ho detto all'autore che ci si possa ritrovare tra un paio d'anni per continuare questo racconto segnando e testimoniando ulteriori momenti di crescita di questa esperienza politica i carabinieri della compagnia di baricentro hanno effettuato perquisizioni in diverse abitazioni del centro storico della città dove è stato notato un incremento di spaccio di droga grande lavoro è stato svolto dal cane Juan con il suo fiuto in casa di un 53enne di un 28enne i carabinieri hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina un panetto di 100 grammi di hashish e 88 grammi di marijuana per i due sono scattate le manette a casa di un 25enne denunciato il piede libero i militari hanno rinvenuto altri 13 grammi di hashish e una dose di marijuana mentre altri 3 individui sorpresi con addosso pochi grammi di marijuana e hashish sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti a luce era in casa di un 27enne i carabinieri durante un blitz hanno rinvenuto tre dosi di hashish già pronte per la vendita e un panetto di circa 100 grammi all'interno del piccolo monolocale è stato rinvenuto vario materiale da confezionamento un bilancino di precisione e un coltello con la lama sporca di hashish per il giovane sono scattati i domiciliari mentre a Stornarello un 28enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti una decina agli scambi documentati dai carabinieri che in alcune circostanze hanno sequestrato diverse dosi di cocaina hashish per il giovane si sono aperte le porte del carcere i cittadini di Bari a Piggia scenderanno in piazza il prossimo 6 luglio alle ore 18 per dire stop ai roghi di rifiuti che ogni giorno mettono a rischio la salute di chi abita nel quartiere lo facciamo tutti per reclamare ad alta voce il nostro diritto al benessere la tutela della nostra salute la difesa dell'ambiente e del nostro territorio e il ripristino della legalità dicono ci fermiamo grazie per essere stati con noi arrivederci buon fine settimana